Mimmo Palmara, nato Domenico Palmara il 25 luglio 1928 a Cagliari, in Italia, ha condotto una carriera poliedrica come attore, regista vocale e artista del doppiaggio. Il suo viaggio nel settore dello spettacolo iniziò con la formazione formale presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, dove affinò le sue capacità di recitazione e si diplomò nel 1949. I primi anni di Palmara nel cinema lo hanno visto apparire in film drammatici di stimati registi come Lucchino Visconti, Mario Monicelli e Antonio Pietrangeli. Nonostante abbia iniziato come attore caratteristico, è presto passato a ruoli da protagonista, dimostrando la sua versatilità in vari generi. Tuttavia, è stato nei film d'avventura e di Peplo che Palmara ha riscontrato un notevole successo, affascinando il pubblico con le sue interpretazioni in ruoli iconici. Durante l'apice dell'era delle spade e dei sandali, la presenza imponente e il talento di Palmara lo hanno portato alla ribalta, guadagnandosi il riconoscimento come una delle stelle del genere. Con il declino della popolarità dei film Peplo, Palmara passò senza problemi al genere spaghetti western, dove adottò lo pseudonimo Dick Palmer per alcuni progetti. Nonostante abbia rifiutato l'offerta di Sergio Leone per un ruolo in per un pugno di dollari, Palmara ha dato un contributo significativo al genere western, collaborando con registi di fama e lasciando un segno indelebile nel cinema italiano. Nel 1967 Mimmo Palmara fece un salto significativo nella sua carriera fondando la Sinc Cinematografica, una società di doppiaggio italiana che sarebbe diventata una pietra a migliare della sua attività professionale. Questa mossa non solo ha messo in mostra il suo acume imprenditoriale, ma ha anche sottolineato il suo impegno per l'arte del cinema oltre la recitazione. Il suo viaggio verso il riconoscimento internazionale è stato spinto dal suo coinvolgimento in diversi film iconici di Steve Reeves, in particolare la leggendaria serie Hercules. I contributi di Palmara a questi film, tra cui Hercules, 1958, e Hercules Uncand, 1959, hanno consolidato il suo status di attore versatile e di talento capace di comandare lo schermo insieme ai titani del cinema. Oltre alla carriera di attore, Palmara si è avventurato nel doppiaggio, fondando nel 1964 la propria società di doppiaggio, la Sinc Cinematografica. Ciò ha segnato un nuovo capitolo nel suo percorso professionale, dove è diventato determinante nel fornire voci italiane per film internazionali. La sua esperienza nel doppiaggio si è estesa ai film western italiani, dove ha lavorato a stretto contatto con registi di spicco, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel settore. Tuttavia, è stata la stretta amicizia di Palmara con lo stimato regista Sergio Leone ad aggiungere un altro livello di intrigo alla sua traiettoria di carriera. Leone, eliminato il talento innato di Palmara, gli offrì l'ambito ruolo di Ramon Royo nel rivoluzionario western per un pugno di dollari, 1964. Eppure, con una decisione che avrebbe definito la sua carriera, Palmara scelse di perseguire un altro progetto, Bullets Don't Argue, 1964, rinunciando così all'opportunità della sua vita. Il ruolo alla fine è andato a Gian Maria Volonte, segnando un momento cruciale nel percorso cinematografico di Palmara. Durante i tumultuosi anni e sessanta, caratterizzati dall'ascesa dei generi spada e sandalo e spaghetti western, Palmara abbracciò la pratica di adottare pseudonimi allicizzati per i crediti cinematografici. Così, Domenico Mimo Palmara ha assunto il personaggio di Dick Palmer, a testimonianza della sua adattabilità e volontà di navigare nel panorama in evoluzione del cinema. L'eredità duratura di Palmara va ben oltre i suoi successi sullo schermo. Il suo fisico formidabile e la sua presenza imponente lo rendono un simbolo di forza e resilienza, in risonanza con il pubblico di tutte le generazioni. Con una carriera che dura da quasi 50 anni, l'impronta indelebile di Palmara nel mondo del cinema testimonia la sua incrollabile passione e dedizione al suo mestiere. La scomparsa di Mimo Palmara segna la fine di un'era nel mondo del cinema. Ha lasciato questo mondo il 10 maggio 2016 a Roma, in Italia, lasciando dietro di sé un'eredità che continuerà a risuonare nei cuori delle passioni cinematografiche. La sua morte è avvenuta all'età di 87 anni, dopo una vita dedicata all'arte della recitazione e del cinema. Le circostanze della scomparsa di Palmara sono state profondamente tristi. I rapporti indicano che stava combattendo una malattia prolungata, che ha gradualmente indebolito la sua salute negli ultimi anni della sua vita. Nonostante la sua capacità di recupero e il sostegno dei suoi cari, Palmara alla fine cedette alle devastazioni della sua malattia. La sua partenza lascia un vuoto nell'industria cinematografica, con colleghi e fan che piangono la perdita di un attore di talento e di una figura amata. I contributi di Palmara al cinema, in particolare nel regno dei film di genere italiani, sono stati ampiamente riconosciuti e celebrati. Il suo carisma unico, la sua presenza imponente e la sua versatilità come attore hanno lasciato un segno indelebile in numerose produzioni nel corso della sua carriera. Man mano che si diffondeva la notizia della sua scomparsa, tributi arrivavano da tutto il mondo, riflettendo il profondo impatto che Palmara aveva avuto sul panorama cinematografico. Dai suoi primi ruoli nei film epici con Spada e Sandali alle sue successive apparizioni negli spaghetti western, le interpretazioni di Palmara hanno affascinato il pubblico e ispirato generazioni di registi.